buona giornata da Leonor oggi video per quanto riguarda la situazione di madonna questo è il terzo video che faccio a riguardo gli altri che ho già fatti in relazione alle carte e con la tavola parlando con uno dei defunti e adesso ho voluto fare questa diciamo questo controllo con appunto un quadrante specifico per la salute e guardate quello che risulta allora io voglio sapere riguardo la situazione di madonna la cantante madonna che sto visualizzando in questo momento come vedete da tra agonia e morte vedete questo cosa significa che molto probabilmente è in una situazione talmente grave che non sia riversibile questo mi è già stato detto dalle carte e anche da un defunto appunto vi metterò il video dove mi è stato addirittura ipotizzato che lei fosse già morta e che la cosa venisse tenuta nascosta dal manager per appunto interessi commerciali vedremo come evolverà questa situazione comunque per adesso questo è quanto viene appunto detto da dal pendolo io vi auguro buona giornata e vedremo come evolve la situazione mi si parlava di un 5 agosto stiamo a vedere a presto